Arriva in città Salerno una nuova ordinanza che disciplina le emissioni sonore dei locali commerciali. Si punta a dare una nuova opportunità ai locali della Movida con una revisione degli orari per consentire di fare musica dal vivo nel rispetto della quiete pubblica. Sarà favorita la musica dal vivo al chiuso nel rispetto dei decibel previsti dalla legge il venerdì e il sabato fino all'una di notte poi anche in settimana sempre al chiuso con un giorno a scelta tra il mercoledì e il giovedì fino alla mezzanotte nonché in musica per accompagnare gli aperitivi dalle 19 fino alle 23 e 30. Si punta a favorire la Movida ma l'amministrazione comunale di Salerno annuncia anche controlli con la polizia municipale per vigilare perché se Salerno suona la vivibilità dei residenti e la quiete pubblica va considerata sacra. Così questa mattina l'assessore al commercio Dario Loffredo che si è assunto allo stesso tempo l'impegno di favorire la musica ma allo stesso tempo di tutelare i residenti. La nuova ordinanza comunale che disciplina le emissioni sonore negli esercizi commerciali è stata illustrata questa mattina a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'assessore al commercio Dario Loffredo, del direttore del settore attività produttive Alberto Di Lorenzo, nonché dei responsabili della CIA Campania Gennaro De Chiara e di Claudio Preziosi direttore della CIA di Salerno e dei proprietari e gestori dei locali interessati dalle disposizioni previste dall'ordinanza. Noi l'indomani, le avevamo detto, la vigilia davvero del 24 e il 31, avremmo detto che volevamo una prova di immaturità da parte dei gestori dei locali. Devo fare i miei complimenti. Il 24 e il 31 le vigile sono state composte, eleganti, belle, perché il Natale è stato di tutti, come deve essere. Stiamo rivedendo quella che è l'ordinanza, oggi andremo proprio a modificarla per far sì che a Salerno si possa fare la musica. La musica che non è chiasso, non è assolutamente rumore. Una musica bella in virtù dei tanti turisti che ormai affollano la nostra città, non solo nel periodo di luci d'artista, ma sempre, in tutto il periodo dell'anno. Grazie ai Navi da Grociera, grazie al nostro bellissimo Grima, grazie alla nostra posizione geografica, grazie alle 600 strutture extraalberghiere che sono nella nostra città. Nell'ordinanza favoriremo la musica dal vivo per valorizzare anche i musicisti nostrani, perché tutti quanti sanno che sarebbero una scuola di musicisti da fare in vidia a tutta l'Italia, tra i più famosi, inutile citare i nomi, alcuni sicuramente sono anche presenti tra le manifestazioni del Comune. Al chiuso, nei locali, sarà possibile fare la musica dal vivo il venerdì e il sabato, chiaramente previa perizia fonometrica, ma questo è di default, con i decibel, quelli che sono previsti dalla legge, fino a luna. Poi un giorno a settimana, sempre al chiuso, tra il mercoledì e giovedì, un giorno a scelta, fino a mezzanotte. Ma noi vogliamo dare un'apertura, vogliamo far sì che Salerno possa sfruttare questo clima e possa diventare veramente Salerno Suona. Questo è l'asta che dobbiamo lanciare. Il venerdì, nel rispetto della quiete dei residenti, vogliamo lanciare questo giorno della musica all'esterno, fino alle 23.30, dalle 19, per permettere anche di chi sorseggia un aperitivo, può farlo sentendo della buona musica, essere accompagnato un aperitivo e farlo fino alle 23.30. Chiaramente questa apertura, alla quale ringrazio tutto il Consiglio Comunale, il Sindaco, tutti i colleghi di giunta, la facciamo perché i locali lo meritano, perché Salerno è una città viva, gli italiani salernitani devono essere orgogliosi di esserlo. Chiaramente ci saranno i vigili urbani, il corpo di Polizia Municipale che vigilerà, perché per noi va bene l'apertura alla musica, ma la quiete dei residenti resta assolutamente sacra. Guardate, lo faremo in modo sperimentale inizierà da subito, chiaramente se qualche locale poi verrà meno nel non rispetto delle regole, chiaramente sarà la prima volta sanzionato e la seconda, sospenderemo anche l'ordinanza. Un accordo importante nel senso che come si ha e come sta sempre a fianco degli autori e quindi dove c'è possibilità di aiutare le amministrazioni comunali a far rilanciare il settore musicale sia che fa la sua parte, ovviamente nel rispetto delle regole e nelle imparzialità che contraddistingue l'ente. Quindi si tratta di un accordo, una bozza di accordo che stiamo immaginando di avviare proprio oggi, abbiamo parlato con l'assessore e adesso parleremo con il sindaco, è teso semplicemente a stare vicino al comune, ad assisterlo nel miglior modo possibile per consentire agli operatori del settore di essere agevolati, ma semplicemente lo svolgimento delle pratiche amministrative e soprattutto per avere una chiarezza su quelli che sono gli oneri da pagare per la salvaguardia dei nostri iscritti e soprattutto perché tutto avvenga nell'ambito della legalità.